Ho organizzato un ricognitore! Ehi, è un carro nemico! Ehi, è un carro! Ehi, è un carro! A sentry kit is available near your location. Ehi, è un carro! Ehi, è un carro! A sentry kit is available near your location. 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 Sì, abbiamo bisogno di un'attention. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. We have lost Objective Charlie. Non abbiamo perso tutti gli obiettivi, ragazzi. We have taken Objective. We have to follow the information and continue to follow the SCAM. There is nothing to do. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.